Buonasera e bentrovati a questa nuova edizione del TG Noi Versilia che apriamo con la pagina di Crona che purtroppo un gravissimo incidente stradale avvenuto questa mattina sulla via Aurelia a Massa è costato la vita a due persone, due anziani che sono stati investiti da un furgoncino alla guida un uomo, un 43enne di Pietrasanta, rimasto anche lui ferito e già arrestato con l'accusa di omicidio stradale sentiamo tutti i particolari in questo primo servizio è stato arrestato per omicidio stradale dalla Polstrada di Massa, l'autista del furgone che all'alba ha travolto un gruppo di anziani a Romagnano, uccidendone due e ferendone altri due si tratta di un uomo di 43 anni di Pietrasanta, rimasto leggermente ferito il furgone adibito al trasporto di medicinali, secondo quanto riferito dalla Polizia ha colpito in pieno il gruppetto di pensionati che stava attraversando l'Aurelia sulle strisce pedonali l'autista del furgone è stato trasportato all'ospedale Versilia con un trauma cranico e un forte stato di shock al presidio versiliese è stato sottoposto ad analisi gli agenti sospettano che l'uomo fosse alla guida sotto l'effetto di cocaina si attendono riscontri dagli esami di laboratorio il drammatico incidente, avvenuto poco dopo le 5 del mattino è costato la vita ad una donna di 74 anni, di empoli, morta sul colpo è un uomo di 81 anni, di massa, morto al pronto soccorso del NOA uno dei feriti si trova ancora in gravissime condizioni è stata portata invece all'ospedale di Lido di Camaiore una donna amica della signora deceduta, colta da malore alla vista di quanto accaduto le due vittime insieme ad una comitiva stavano attraversando l'Aurelia per prendere l'autobus che li avrebbe accompagnati in gita a Praga sul posto oltre al 118 anche la polizia stradale e i carabinieri per i rilievi e c'è il commento di Cosimo Maria Ferri, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia lunigianese che commenta l'accaduto e dice linea dura contro i pirati della strada le auto non possono diventare armi, sono vicino ai familiari delle vittime ha dichiarato il sottosegretario di Stato alla Giustizia il tema della sicurezza stradale è stata una priorità in questi anni ricorda in una nota Ferri, tant'è che è stato finalmente introdotto il reato autonomo di omicidio stradale con sanzioni penali severe certe, con sanzioni anche molto forti come l'ergastolo della patente di guida prevista in alcuni casi il ritiro della patente fino a 30 anni ricorda il sottosegretario alla Giustizia Voltiamo pagina adesso con l'allarme lanciato in queste ore da Arpat sul depuratore di Camaiore e Liquami che sono stati sversati direttamente nel fosso della Bate di conseguenza direttamente in mare per un malfunzionamento e c'è già l'intervento di Arpat nei confronti del gestore Gaia tutto parte da una segnalazione del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Francesco Ceragioli, ma sentiamo Depuratori che fanno flop, scarichi a mare, torrenti e foci inquinate che continuano a contaminare l'acqua della nostra costa La mancata corretta depurazione continua a essere la maggiore minaccia del mare versiliese che rappresenta una delle principali risorse dell'economia turistica della zona Martedì 27 marzo, esattamente due settimane fa tecnici di Arpat sono intervenuti su segnalazione del consigliere comunale Francesco Ceragioli al depuratore di via Duccini a Camaiore dove è stato prelevato un campione allo scarico del bypass che, a seguito delle analisi effettuate presso il laboratorio ha rilevato valori elevatissimi di Escherichia coli del tutto simili a quelli di un refluo in ingresso all'impianto di depurazione Gaia, società che gestisce l'impianto, ha comunicato che sta incontrando da tempo difficoltà ad allontanare dall'impianto in oggetto i fanghi di depurazione e che in quella giornata, per evitare un pesante trascinamento dei fanghi in uscita è stato attivato il bypass con il conseguente scarico di liquame non depurato nel corpo idrico recettore e cioè, come destinazione finale, il fosso dell'abate e quindi il mare Gaia afferma che, per il perdurare delle difficoltà menzionate che stanno interessando anche altri impianti di depurazione anche nel prossimo futuro, la prestazione del depuratore potrebbe risultare carente almeno sporadicamente e soprattutto in occasione di massicce portate in arrivo dovute a fasi di piogge prolungate ciò potrebbe determinare e saltuare i superamenti dei parametri tabellari allo scarico che l'azienda sembra non essere ora in grado di controllare ARPAT quindi vigilerà finché il gestore, ovvero Gaia metta in atto tutte le misure possibili per far fronte alle problematiche verificatisi anche in vista della prossima stagione balneare A proposito di ambiente, l'Assemblea dei Soci di Reti Ambiente è appisa per la modifica dello statuto per l'adeguamento al decreto Madia per l'ingresso del socio privato nel maxigestore dei rifiuti di aria vasta dopo l'abbandono dell'aula da parte dei comuni di Livorno, Carrara e dei comuni dell'Elba l'Assemblea è proseguita, i partecipanti, il 75% delle quote hanno votato tutti salvo due astensioni e un solo voto contrario, quello del comune di Forte Remarmi e dunque è stata votata la proposta di modifica dell'articolo 3.5 dello statuto era presente l'assessore Forte Marmino Andrea Mazzoni Siglato l'accordo tra il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile il Proveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche a Firenze per dare il via al nuovo comando la sede dei Vigili del Fuoco di Viareggio che dovrà sorgere in questo terreno che vedete nelle immagini siamo sulla via delle Darsene tra Laurelia e Cavalca Ferrovia, zona Cotone e garantirà spazi adeguati sia per la logistica che per lo svolgimento di tutte le attività che consentono ai Vigili del Fuoco di svolgere al meglio il servizio di soccorso per la cittadinanza due anni ci sarà da attendere per vedere realizzata l'opera questa è stata la previsione fatta a metà gennaio dal comandante provinciale Geremia Coppola al consigliere comunale di opposizione Massimiliano Baldini dunque c'è stato adesso il via libera, l'accordo siglato si definiscono le attività per la realizzazione del distaccamento via Regino a Lucca si sono celebrati 166 anni dalla fondazione della Polizia di Stato è più che positivo il bilancio dell'attività della Questura di Lucca e dei suoi commissariati sul territorio i cui uomini hanno dovuto far fronte a eventi e manifestazioni di carattere eccezionale durante tutto il 2017 come il Vertice dei Ministri degli Esteri del G7 e il concerto di Rolling Stone a esprimere soddisfazione per il lavoro della Polizia di Stato è stato il Questore Vito Montaruli in occasione dei festeggiamenti per il 166esimo anniversario della fondazione della Polizia ma al di là degli eventi eccezionali il Questore si è soffermato ad evidenziare i numeri dell'attività quotidiana in special modo per il contrasto dei furti, le rapine e il traffico di stupefacenti in tutto tra squadra volanti, squadra mobile e polizia stradale sono state tratte nel resto 99 persone un'attività, quella di contrasto ai reati predatori che verrà incrementata nei prossimi mesi anche grazie all'arrivo in provincia di 29 agenti di rinforzo come anticipato nei giorni scorsi dalla Prefettura e confermato dal Questore Sì, c'è uno schema di potenziamento che si completerà da qui a un anno e che vedrà appunto 20 unità in potenziamento quindi non sostituzioni ma potenziamento vero e proprio e quindi che verranno assegnate sia alla Questura di Lucca che ai commissariati distaccati, Forte dei Marmi e Viareggio qua a Lucca anche nei commissariati potenzieremo sia l'attività di controllo del territorio che anche l'attività investigativa potenzieremo anche un ufficio che si occupa all'interno della squadra mobile di criminalità predatoria Al termine delle celebrazioni della festa durante la quale sono stati letti anche messaggi inviati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Capo della Polizia Franco Gabrielli sono stati consegnati le attestate di lode e di encomio al personale che si è distinto in operazioni particolarmente delicate ed importanti Torniamo a Viareggio, amministrazione comunale alle prese con l'assessura del nuovo regolamento urbanistico Ma quali sono i rischi da evitare per la città? Lo abbiamo chiesto da Antonella Serafini fresca di dottorato sui temi urbanistici della città di Viareggio Sentiamo Finalmente e dopo tantissimi anni lo scorso 29 marzo l'amministrazione del Ghingaro ha annunciato nei suoi punti salienti il nuovo regolamento urbanistico della città di Viareggio Il nuovo strumento di pianificazione illustrato per sommi capi dall'assessore all'urbanistica Federico Pierucci contiene idee per rendere più agili le trasformazioni urbane e il recupero delle aree degradate della città di Viareggio dal punto di vista normativo e burocratico È l'atto più importante di questa consigliatura che all'indomani della sua presentazione ha sollevato sia negli ambienti della politica locale che tra i professionisti del settore molte perplessità Antonella Serafini freschissima di un dottorato di ricerca al Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze con una tesi dal titolo Viareggio un'idea di città e la sua realizzazione dal concorso per la sistemazione della spiaggia del 1924 al piano regolatore del 1941 parla dei gravi errori urbanistici commessi in passato a Viareggio e di quale futuro possa esserci per le aree come Salove, Clap, Fervet Per quello che riguarda la Salove una volta era anche stata ventilata l'ipotesi di trasferirci il comune di Viareggio si potrebbe farne un'area di servizi per i giovani, per gli anziani, per la città ma il problema non è tanto avere un'idea per un luogo quanto appunto, ripeto, avere un progetto più generale di riqualificazione della città nel quale inserire l'utilizzo di queste aree per esempio l'intervento che hanno fatto diciamo Conad e Euronics come c'è piovuto in quale linea, diciamo, viaria, commerciale, ideale a un certo punto sono sbucati dal nulla questo centro commerciale e noi, diciamo, l'abbiamo preso e adesso ce l'abbiamo però l'area com'è? è vivibile è di nuovo un giro di auto che spostano le persone così da un posto all'altro senza una linea intanto Pietrasanta si fa a misura di biker o di ciclista sentiamo favorire la mobilità sostenibile incentivare l'attività all'aria aperta e potenziare servizi gratuiti destinati a cittadini e turisti che si muovono in bicicletta valorizzando il legame tra artigianato e creatività ecco Pietrasanta in sella il progetto avviato dall'ex amministrazione comunale di Massimo Mallegni nato da un'idea del consigliere comunale Giacomo Vannucci che vedrà la luce nei prossimi giorni con l'installazione in quattro punti del territorio dei totem fai-da-te super accessoriati per effettuare piccole riparazioni o semplicemente gonfiare le ruote della bici le postazioni saranno installate nei pressi dello skate park a Tonfano in piazza Leonetto Madei a Fiumetto all'ingresso del parco della Versiliana e lungo il viale Morin quattro installazioni artistiche rigorosamente made in Pietrasanta il progetto è frutto del lavoro di Fiummani da una mia idea dalla collaborazione di un giovane artista che è Matteo Castagnini che ha disegnato tutto il totem dalla grafica curata da Giovanni Bovecchi e infine dalla dita Gippo di Luigi Puccetti che ha consentito fra materiale e manodopera artistica a realizzarlo e non ultimo all'amico Fiorenza Liverti ex professionista delle due ruote che ha donato tutti gli attrezzi pompe, pinze e cacciaviti per poter inserire all'interno delle cassette che contengono ogni installazione insomma una spinta all'utilizzo della bicicletta visto l'arrivo della bella stagione è un aiuto per chi una volta scelto il mezzo a due ruote si trova in difficoltà in mezzo alla strada è una novità assoluta per la Versilia già sperimentata con successo in altre località turistiche andiamo in Alta Versilia cerimonia di inaugurazione nel fine settimana per un nuovo mezzo che la cooperativa Condomini di Levigliani ha donato alla pubblica assistenza di Stazzema un mezzo per i servizi sociali 4x4 che consentirà di potenziare i servizi dell'associazione di volontariato erano presenti come vedete da queste immagini il presidente della cooperativa di Levigliani Daniele Poli che ha consegnato le chiavi della Panda 4x4 al presidente della pubblica assistenza Renzo Milani presente anche il sindaco Maurizio Verona e il suo vice Gidio Pelagatti amministrazione che ha ringraziato per il bel gesto la cooperativa Condomini di Levigliani e la pubblica assistenza per il lavoro che portano avanti 73 anni dalla liberazione dalla linea gotica ci sono state celebrazioni rievocazioni sul territorio versiliese dal mare alle apuane vediamo il servizio con le immagini di Paolo Barberi e Luca Venante la Versilia ha reso omaggio al sacrificio delle vittime della seconda guerra mondiale in occasione del 73esimo anniversario della liberazione della linea gotica che partiva proprio dai territori apuani fino a raggiungere la costa romagnola nello scorso fine settimana una lunga serie di eventi organizzati dall'associazione linea gotica tirrenica ha rievocato gli anni della resistenza e dato lustro al loro significato storico a Vittoria Puana è stata allestita un'esposizione di mezzi d'epoca riproducendo a tutti gli effetti un campo militare americano del 1944 sono tutti veicoli appartenenti a privati a collezionisti che negli anni piano piano riescono a portarli a questo grado di origine per esempio questa jeep la jeep rappresenta un po' il mezzo della liberazione il mezzo che porta la liberazione nelle nostre città è un veicolo da ricognizione dell'esercito americano che poteva portare quattro soldati e nello specifico questa è una jeep del 1944 settembre 1944 che è stata ritrovata da me e da mio padre nel 1987 a Ripa di Seravezza anche in Alta Versilia è stata celebrata la liberazione dalla linea gotica ad Azzano sulla montagna seravezina oltre all'esposizione di reperti storici è stata organizzata una parata di una trentina di mezzi militari d'epoca e a chiudere una relazione storica nella sala della pubblica assistenza un appuntamento che ha visto un'ottima partecipazione di cittadini il Forte Remarvi andrà ad ospitare a breve tra poche settimane il trentatresimo raduno nazionale del corpo militare della Sardegna la specialità Granatieri di Sardegna sentiamo nel centenario della vittoria nella grande guerra l'associazione nazionale Granatieri di Sardegna specialità della fanteria dell'esercito italiano terrà a Forte Remarmi il trentatresimo raduno nazionale dal 20 al 22 di aprile prossimi la scelta su Forte Remarmi accolta favorevolmente dall'amministrazione che ha contribuito all'iniziativa è nata dal desiderio di voler rendere omaggio a quei 961 Granatieri toscani che dettero la loro vita durante il primo conflitto mondiale 961 Granatieri toscani si sono immolati sul fiume Tagliamento allora a Flambro ho pensato sarebbe opportuno ricordare questi ragazzi dei quali moltissimi decorati della massima e minore efficienza al valore militare il raduno ha oltre significato in quello che ho detto ricordare ed è intitolato questi 961 ragazzi ricorda anche il 359esimo anniversario della costituzione del corpo dei Granatieri sono nati il 18 aprile 1659 in Torino e siamo ancora tutt'oggi presenti sul territorio nazionale nella nostra patria per fedeltà alle istituzioni a partire dai vecchi ducati fino alla Repubblica Italiana adesso oltre mille persone contando i soli addetti ai lavori sono attesi a Forte Remarmi alloggiati negli hotel versiliesi contribuendo ad una buona spinta per l'economia turistica saranno tre giorni di eventi l'appuntamento clou sarà la mattina di domenica 22 con il lungo corteo commemorativo nelle strade del centro per noi è un onore ospitare il 33esimo raduno dei Granatieri di Sardegna è un momento importante per la nostra cittadina è un momento importante anche da un punto di vista turistico è tutto per la pagina di Cronaca tra poco le notizie sportive ben ritrovati il calcio la serie D è l'atteso derby tra Massese e Viareggio è finito uno a uno come sapete è sfumata dunque il risultato migliore la vittoria quella che si ospicava alla vigilia per i bianconeri sentiamo i particolari Corroelepore per il Viareggio il sogno di vincere il derby a massa è svanito a 10 minuti dalla conclusione di una partita giocata bene dai ragazzi di Carlo Bresciani che volevano reagire dopo la batosta subita con il Savona in casa 6 a 1 prima di Pasqua la prova è stata convincente pur mancando ancora a sinistra nel pacchetto difensivo Luca Relli a causa di un infortunio e Mattei adattato che ha privato la squadra certamente di un qualcosa in più la rete di Papi allo scadere del primo tempo il rigore parato da Cipriani all'inizio della ripresa sembravano il preludio al successo ed invece Brondi nel finale di partita dopo che Bresciani aveva operato alcune sostituzioni è arrivato alla rete del pareggio per gli Apuani Viareggio che intende centrare comunque i playoff prima della conclusione di questo campionato quindi proprio per questo il turno interno di domenica con il finale deve essere vinto parliamo ancora di calcio ma per i più giovani continua il momento di espansione del progetto Koala Soccer School mentre cresce il numero di iscritti e le lezioni di tecnica calcistica organizzata a Lucca Massaccarrare Calci il progetto creato da Manuele Cacice e Simone Angeli sta raccogliendo l'interesse di molte realtà calcistiche anche internazionali l'ultimo evento si è concretizzato nei giorni scorsi ed è stato il Massimo Lucchesi ad avere l'idea del portale allenatore.net a ospitare in Versilia i giovani della Camovniki nota scuola di calcio di Mosca una serie di appuntamenti per la realtà del calcio provinciale ospitati al campo sintetico di Capezzano Pianore a Camaiore lo vedete da queste foto è stata una bella occasione di scambio e di conoscenza le altre iniziative a Luca Massarosa e calci la prossima settimana il Coala Soccer School supportato da Synergest sarà a Roma per una lezione con la Soccer Play Agency è ufficiale il programma della serie A di Beach Soccer 2018 Viareggio ospiterà l'ambitissimo evento della Coppa Italia dal 5 al 9 di luglio grazie al grande lavoro del presidente Carpite e del suo staff la nostra città ospiterà l'evento con il maggior numero di squadre iscritte e di maggiore importanza dal punto di vista mediatico questo è il commento ricco di entusiasmo dello staff bianconero la squadra ricordiamo vincitrice del triplet nel 2016 intanto il viareggio Matteo Marrucci è il nuovo allenatore nazionale della Germania Beach Soccer dunque ancora grandi risultati un tuffo nel passato un viaggio all'indietro nel tempo invece per riscoprire successi dell'Ancora di 30 anni fa nel calcio allievi vediamo il servizio con le immagini di Franco Galimberti a distanza di 30 anni la squadra allievi dell'Ancora che vinse il campionato nella stagione 87-88 si è ritrovata alla taverna del calcio con l'allenatore Silvio Ferrara e parte della dirigenza per ritornare indietro di molti anni quando la squadra che purtroppo oggi non esiste più ha scritto pagine importanti del calcio giovanile versiliese nel corso della serata sono state regalate le maglie di quel tempo a tutti i calciatori ed è stata realizzata anche una torta commemorativa per ricordare la vittoria dell'Ancora contro il Camaiore dopo i calci di rigore sul neutro del Necchi Balloni di Forte dei Marmi che stancì la vittoria del campionato l'allenatore Silvio Ferrara ricorda commosso quel periodo preparatore atletico e un medico alle prime armi diventato poi famoso era Michele Gemignani che ricorda un calciatore poi diventato famoso come Alessandro Pierini e Mirko Bertolucci che alternava all'hockey al calcio stasera i ragazzi mi hanno fatto una grande sorpresa anche se lo sapevo specialmente Simone Remedi e Ganovelli Alessandro si sono fatti promotori di fare questa rimpatriata che è stata una cosa bella per una persona che va verso la parabola della vita del tramonto ricordiamo poi anche le grandi trasferte di hockey su pista di Mirko Bertolucci con la squadra del Cento Giovane e poi la domenica mattina veniva a giocare con l'Ancora al calcio altra bellissima esperienza e tra l'altro Mirko appunto condivideva queste esperienze che spesso tornando da lunghi trasferti si presentava la mattina dopo con me a giocare con l'Ancora e era una cosa molto piacevole e divertente proprio tantissima passione Ancora per il calcio nel campionato di seconda categoria dopo i risultati dell'ultimo turno c'è da segnalare la prestazione di Giacomo Crovara portiere del Corsanico in seconda categoria domenica ha parato due rigori nella gara che la sua squadra ha pareggiato uno a uno sul campo del Versilia a lui vanno i complimenti della squadra e dei tifosi per questo risultato e per il suo ruolo decisivo per il risultato finale splendida giornata di successi per gli atleti della canoa kayak Versilia che facendo incetta di medaglie sul fiume Vara ha portato a casa la canoa K1 messa in palio dal canoa club Sesta Godano società organizzatrice ha aperto il medagliere con un meritato e sudato oro Andrea Lucariello che nella categoria ragazzi ha preceduto per sette decimi l'atleta fiorentino Gabriele Ciani e poi altri risultati nelle varie categorie E' tutto anche per lo sport tra poco di nuovo insieme terza parte con gli eventuali aggiornamenti Ben ritrovati terza parte del nostro telegiornale con un aggiornamento di cronaca un incendio divampato nella serata di ieri intorno alle 23 ha distrutto una roulotte e danneggiato un furgoncino a piano del Quercione vicino all'impianto di compostaggio di Pioppogatto le fiamme sono state generate probabilmente da un cortocircuito di un fornellino elettrico danneggiata una tenda che copriva parte dell'esterno della roulotte non c'è stato nessun ferito per fortuna l'uomo che viveva all'interno di Massarosa non si trovava appunto sul posto al momento dell'incendio sul posto vigili del fuoco e carabinieri non ci sono altre notizie è tutto per stasera grazie dell'attenzione buon proseguimento di serata grazie a tutti